Un saluto e ben ritrovati dalla redazione del Tg della Mobilità. Riprendono oggi i lavori di rinnovo infrastrutturale lungo la ferrovia Romalido. Il cantiere è attivo da lunedì al venerdì nelle ore notturne. Dopo le 21 quindi stoppa i treni e largo i bus navetta lungo l'intera tratta Porta San Paolo-Colombo. Nelle giornate del sabato e della domenica invece il servizio lungo la ferrovia Romalido sarà regolare. E da oggi a venerdì sono in programma lavori notturni sui sottovia di Corso d'Italia. Il cantiere sarà attivo tra le 22 e le 5 del mattino. Sono previste deviazioni per le linee 89, 490 e 495. Grazie a tutti.